Giada Felappi Un'occasione per mettere in pratica quello appreso finora sui libri, provando sulla propria pelle i problemi di questi paesi meno fortunati. Quello di partire è sempre stato un mio grande desiderio, da molti anni. Quello che mi ha spinto è la curiosità di vedere un modo di vivere che è molto lontano dal modo in cui siamo abituati a vivere oggi, di staccarci appunto dal comfort, dalla modernità e di andare ad esplorare altri modi di vivere, altre quotidianità e incontrare appunto altre persone, mettersi al servizio dell'altro con gratuità. Lì le suore Dorotea hanno fondato e gestiscono appunto un centro nutrizionale, un centro sanitario in cui andrò a fare servizio. La problematica maggiore diciamo di queste zone è quella della malnutrizione dei bambini e questo centro nutrizionale accoglie circa 100 bambini al giorno che vengono accolti e accuditi durante tutta la giornata, quindi ci sono anche dei momenti di educazione e di animazione vera e propria. Tu partirai a breve, quali sono le emozioni del momento e che cosa soprattutto ti aspetti da questa esperienza, che è la prima nella tua vita? Esatto, è la prima esperienza, sono molto entusiasta, ho un po' di paura e di ansia perché appunto partirò da sola. Mi aspetto di essere sorpresa da ciò che mi darà questa esperienza e di avere sempre la mente e il cuore aperti all'accoglienza dell'altro e degli altri. La missione di Giada rientra nel grande progetto delle suore Dorotee da CEMU, un sorriso per Cimpunda. Per sostenere gli obiettivi missionari è attivo una raccolta fondi, il cui ricavato sarà devoluto all'acquisto di materiale sanitario, farmaci, alimenti e cibo terapeutico. Per maggiori informazioni è possibile contattare le suore Dorotee di CEMU al numero 348-964-0980.